Stregni e si posti al lago! No, no! Grazie. Sì! Papa! Papa! Sì. Papà! oh Sì, vedi un sacco! Oh no! Andiamo! 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 No use in keeping us alive, man! Yes! No! Andiamo! 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 C'è qualcosa di speciale. Come on, get the line. Valina, over here. Medsestra Petrova, you're needed in the field. What is that? No! Grazie. Grazie. No! 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 Pre-order now and get early access to the open beta. Digital pre-orders get instant access to the Night Raid Mastercraft and Black Ops Cold War and Warzone. The Night Raid Mastercraft and Black Ops Cold War and Warzone.